YOSHI! forse acquistare tutte quante queste quindi facciamolo perché mi sembra giusto così dieci no no che zero dieci tutte quante buttacene mille va bene così vediamo un po' che cosa nasconde questo recipiente mamma mia già comprate tutti cioè fantastico l'avete chiesto tra l'altro nei commenti di cercare di completare un po' tutti i costumi e lo farò almeno se possibile lo farò più che volentieri anzi lo farò senz'altro caccio la spirale sembra carino camion viola spettacolare che cosa abbiamo erba andiamo in giro con l'erbetta stupendo pecora bruna no questa per ora questa camion giallo ok poi abbiamo la cassa di legno cassa di legno forse ci richiudiamo dentro non saprei casa dal tetto blu ma che diamine di costumi lo YOSHI picchiaduro ok questo merita pecora bianca e il cestino dei rifiuti blu le soddisfazioni della vita no allora cambiamo costume e ci mettiamo il picchiaduro dai lo YOSHI picchiaduro perché è carino così dai facevo la pecorella però va benissimo anche così allora tutti tenuti oh yes mu vieni noi proseguiamo con nuovi livelli come vi ho detto l'altra volta e tornerò indietro appena appena possibile torneremo a fare anche quelli che ci siamo persi per il momento oppure li faremo alla fine insomma non vi preoccupate che tanto faremo tutto in ogni caso sfida YOSHI picchiaduro già che c'eravamo abbiamo anche il costume da YOSHI picchiaduro ok raccogli 100 monete 20 cuoricini 20 monete rosse e quanti sono 6 fierellini sembra un po' più semplice allora questo ci sono un po' meno fiori quindi dovrebbe essere più breve ma la YOSHI picchiaduro sarebbe il mostriciattolo in cima cioè era quello il costume praticamente il nostro costume ci fa la base con sopra noi che è tutto molto bello allora 9000 cazzotti cosa sono ci dà 3 fiori spacca tutto con YOSHI picchiaduro usa lo stick sinistro per puntare i pugni in alto o in basso tieni premuto e rilascia B per un pugno più potente ci proviamo perché no ok si può anche saltare quindi perfetto no 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 fermi vai così prendiamo tutte le monete e ho mancato roba non so se quelli mie mi mi sta no male ok preso il fiore no non sto riuscendo a prendere niente ok sto prendendo troppa roba perfetto carica più possibile ho perso una qualcosa ma ne ho presi altri 120 mamma mia la devastazione di pugni caricati veramente bellissima ok perfetto qui prendiamo un po' di tutto alto vai così siamo a 1800 ce la faremo mai a fare i tre fiori secondo me dobbiamo colpire tutto per prendere i tre fiori però ci proviamo perché no alla fine siamo a 2000 il colpo caricato al massimo è stupendo vai bisogna saltare correttamente anche perché se ce la faremo mai almeno due fiorellini dai andiamo per i due andiamo per i due mi va bene i due ok ho capito bisogna caricare per prendere quelli volanti per prendere meglio quegli volanti più che altro tipo così ah mio 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 ho preso moneta ok no da tre no ma poi per uno no no 4.000 ok siamo a 4.200 perfetto mi sa che mi sono perso una moneta rossa forse qualcosa del genere almeno sono vivo il che è già qualcosa e non è male no mamma mia non ho preso l'altro camion questo è un peccato avrei dovuto colpire allungando il braccio obiettivamente no ma mio da sto perdendo tutto dai così le monete non sono ben prese tutte movieri a soddisfazione della vita aprite aprite maledetti voglio le monete datemi le monete vai così perfetto mi hanno fatto schifo ma va bene così ok ma perché c'erano sei fiorellini quando ce ne da solo tre ah perché tre si trovano più tre di punteggio quindi io in teoria non dovrei aver presi manco uno un fiore un fiore abbiamo preso soddisfacente manco l'energia mamma mia mamma mia ok allora due allora tre sono di punteggio e va bene me ne mancano due di quelli normali e l'energia è 18 su 20 eh ma è tasto bisogna prendere tutto per fare 9000 punti qui eh non c'è da lasciare niente niente wow pesantissimo questo ok per il punteggio non ha molto senso di farti vedere tutto mentre mi interessa prendere almeno quei trovo a pucci cuccioli qui mi interessa farvi vedere dove sono i due fiori mancanti quindi ci rivediamo per quelli soprattutto ok il fiorellino l'ho preso che è il terzo neanche il secondo yes ho preso il secondo era il furgoncino col coso quello quello lì era quel furgoncino malefico per il resto ho fatto schifo come punteggio quindi presumo che per ora lascerò qui perché ho fatto fagioli prima come punteggio totale però almeno prima era arrivato a 7000 ora non ci sono arrivato quindi immaginatevi voi la mia felicità nell'aver fatto tutto questo e invece ho superato i 7000 anche stavolta va bene d'accordo per ora andiamo avanti così almeno riprendiamo anche alcuni oggettini che c'eravamo che non avevamo ancora preso tanto va bene questo significa semplice questo è questione di prendere tutto quanto cioè di distruggere tutto quanto perché per i cuori in fondo ci si arriva per i fiorellini vi ho fatto vedere dove sono quindi non è un problema questo è un problema di punteggio e basta che va colpito tutto quello che vedete a schermo tutto tutto dall'azione altrimenti non si arriva a 9000 bella tosta la situazione però abbiamo già risuperato le mille monete l'avete visto a fare tutte queste cosette già mille monete passate mamma mia ma di qua che c'è esattamente direzione cartapicco no allora prima di andare direzione cartapicco aspettate un attimo sapete cosa rifacciamoci questo livello con il trovapucci cuccioli entro tre minuti ne vanno trovati tre quindi andrò un po' più veloce del normale cercherò di rientrare subito nel tempo anche se andrà a finire male immagino ma ci proverò quindi vediamo un po' ah ma con lui si fa urca ma ci vado a velocizzarlo no perfetto che succede quindi aspettate un po' qui dovrei aver spaccato un po' tutto in teoria no ma anche no perfetto bene ottimo cerchiamo di non farci fregare tipo ora dove va camioncino mi sta fregando mi sta mi sta passando avanti no 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 da tra l'altro si può fare questo è notato prima cioè tipo si dà un un botto alto e niente comunque uno un po' ci era in un camioncino e va bene e ce lo si è perso e fin lì va bene tra l'altro da notare come io stia colpendo praticamente quasi tutto quando non ce n'è bisogno soddisfazione della vita ok perfetto dov'è l'altro po' ci preso e uno c'è ora puccicuccio l'ho preso non vorrei fosse in uno di quei cartelli sapete prima o poi non vorrei trovarlo lì questo potrebbe essere un problema tra l'altro ora che ci penso ma il tempo cioè in che come funziona qui il tempo perché in teoria noi rimaniamo bloccati ma per poco tutto teorico guardate dov'è un pucci ti prendo torna indietro fatemi caricare ieri preso vai così ok allora vediamo un po' se di tempo ce la facciamo perché altrimenti poi ci rivediamo direttamente al primo pucci vi faccio vedere come prenderlo col camioncino l'importante è non rimanere bloccati troppo perché è lì che ti frega questo livello di tempo intendo e ci siamo erano sotto i tre minuti no in teoria siamo stati larghi siamo stati giusto spero perché erano tre minuti vero per completare e prendere il fiore ora lo vediamo perché se erano due minuti è tosta cioè due minuti è tosta arrivarci entro tre minuti ok meno male però vanno portati tutti e tre ci 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 prendiamo il primo pucci e vi faccio vedere appena lo prendo vai così yes preso il primo pucci di poco ma l'ho preso alla grande così yes presi tutte e tre ora vediamo un po' di finire il livello entro tre minuti ok ragazzi questo è il mio tempo con tutti e tre gli osci presi gli osci continuo a chiamare gli osci i pucci presi due minuti 4 secondi 74 centesimi se vi va facciamo una gara vediamo un po' se riuscite a battere questo tempo ho fatto abbastanza bene mi sembra ovviamente battibile per carità se uno ci si mette lì prima o poi lo batte però comunque sono abbastanza soddisfatto e finalmente ce l'ho fatta e non riesco a demordere sul fatto dei punti nella prima parte il punteggio 9000 non gliela do vinta non per ora ce l'ho fatta ragazzi 9195 forse un pelino di più forse no però sopra i 9000 vai così grandi allora si possono perdere qualcosina si può perdere tipo quelli da 20 punti qualcuno di quelli da 20 punti lo puoi perdere perché l'ho perso però ho perso veramente pochissimo poco 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 e quindi sono andato appena sopra solo di 195 punti quindi quelli da 500 non li potete perdere giusto per intendersi le astronavi da 500 punti non le potete perdere assolutamente in nessun modo quindi dovete prendere tutte per il resto grandi così sono soddisfatto abbiamo fatto anche lo Yoshi picchiaduro completato come si deve lo Yoshi picchiaduro ah soddisfazione a fare questi livelli alla faccia di chi diceva che è un gioco facile semplice da bambini molto semplice si si chi non ha mai giocato uno Yoshi lo dice questo è come chi non ha mai giocato un Kirby è la stessa cosa finisci non Kirby se ti riesci al 100% uff sono proprio esausto se solo avessi ghiacci fiori ridenti ce ne abbiamo meno sblocchiamo la zona successiva non mi sono dimenticato le zone prima ragazzi tranquilli intanto vado avanti quelle lì sono avanzatempo l'importante perlomeno per quanto mi riguarda il momento è proseguire poi fare il 100% torniamo indietro non c'è problema grazie mi sento già molto meglio anch'io anch'io ora dici che è si sta aprendo una montagna io queste cose le adoro ecco l'aria cartapicco area cartapicco sbloccata bene allora per questo episodio noi ci possiamo salutare qui nel prossimo andremo nella miniera delle cascate e vi ricordo se vi fa di condividere questi video sui vostri social di fammi sapere la vostra nei commenti mi raccomando quando se ne pensate del gioco se vi va bene come lo sto portando avanti adesso insomma fatemelo sapere mi raccomando lasciate un bel like al video se il video vi è piaciuto e io mi ricorderò anche di mettere il gamepad pro in carica si spera e alla prossima ciao